Che dire, è qualcosa che nessuno, tra tutti i presenti, si può immaginare. Attenzione, una cosa bella, una cosa brutta non le facciamo, a parte Nico. Comunque. Allora, intanto voglio qui, sulla pista, sulla pedana, a Giuseppe. Giuseppe! Giuseppe, chi? Giuseppe, chi? Io ti dico soltanto che sta volando il cartellone, poi fai tu. Ah, ho capito. Giuseppe, un amore c'è qua. Eccolo qui. Il cartellone è tuo. Ok, perfetto. Allora, Giuseppe sta facendo una cosa un po' particolare. Che do l'onore a lui di poterlo dire. Tieni, Giuseppe. Francesca. No, no, Francesca. Vai! Vai! Francesca. Non mi piante di più. Vai! Vai! Non mi piante di più. Vieni, vai! Non piante, dai. Non piante. No, tranquillo. No, tranquillo. Per favore lo giri. No, tranquillo. Non mi piante di più. Signori, è una proposta di matrimonio. È una settimana somminzista che vuole fare questa sorpresa. Dico, di più ti fai gli auguri. Però ancora non si sarà disposta. Dico, le cose scontate non le vogliamo. Lo sposi? Sì o no? Leggiamo la domanda. No, tutto vi faccio. La risposta? Un applauso! Scusate, prima del bacio... Io... Trometto. Trometto e sicco, ma... Dico, fai solo la proposta. Non credo che fai solo la proposta, vero? Non mi far fare brutta figura. Ti prego. Una sigaretta. No, la sigaretta no. Non c'è niente. Che si può fare? Non c'è niente. No, non ci credo. Ai! 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 Sì, il primo sono io a essere curioso. Dico... Credetemi, una settimana che mi tortura. Un cioccolatino. No, per favore. Dico, mi fai fare brutta figura pur a me? Che devo fare? Ok, ha ragione, è un cioccolatino. Non è un cioccolatino per te. Non è un cioccolatino per te. Ci ha parato bianco. Apriamolo. Un bell'anello. Un applauso, forza. Facciamo gli auguri ai nuovi sposi. Dobbiamo venderci sposati in Sicilia. Un applauso, un applauso.